Situata lungo la strada che conduce a Cracovia, Olomuc è una cittadina della Repubblica Ceca che merita una breve visita. La cattedrale di San Venceslao è il primo luogo che abbiamo visitato. La facciata e gli interni ci hanno fatto subito capire l'importanza di Olomuc nel passato. Le strade del centro, ma soprattutto la piazza principale, i suoi palazzi, l'orologio astronomico e la splendida colonna della Trinità meritano una visita la cui durata non ha superato la mezza giornata. È l'ideale pertanto come tappa per spezzare il trasferimento tra Praga e Cracovia. Ed ovviamente un pianoforte posto sotto i portici del centro storico ha tirato subito la mia attenzione. Grazie a tutti!